buongiorno da bangkok state qui alle 8 di mattino a bangkok breng market french market red market and they are eating everything nine 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 shopping list of food what is it? oh everything is on there wow i don't put the chicken on the seat and put it out everything inside strong and ill qualcuno mettere in il curry, stir, fine o barbeque ora in Okerland, barbeque barbeque, putte in chili made porto del food i try a lot of people understand with this stuff this is a half puffer and so puffer, i like it and stiffed inside Sucola penalti Molto freddo, si sono inciugati nella terra e ci sono tutti i campi e ci sono i bambini e ci sono i bambini e ci sono i spici di spazio e ci sono i bambini non c'è la città dentro e ci sono i bambini alcuni si mangiano i salati alcuni si fanno i salati Sì, c'è un mercato pazzesco. Ragazzi, c'è un mercato pazzesco. Pelle peso, cimbala, la moneta. Sì, c'è un mercato pazzesco. Questa è la mia mamma. Ho 7 anni fa, ho cominciato la scuola qui all'interno, parlando con tutti, cucando e danci. Dopo 5 anni fa, ho messo il bambino. Ho una nuova casa. Ora, vediamo il nostro, perché 2 anni fa abbiamo il fior qui. Non è tutto facile e ora la buona. La buona è tornata. La buona è tornata. Ho una grande incontrazione dentro. Oh, buon appetito! Buongiorno a tutti in la cucina. Ho! Ho! Mi ha chiamato, è la rost apple. È un po' di mei. Molto di persone dice che è un po' di mei. Ho! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti